buonasera e ben ritrovati nuova puntata di angoli come sempre io inizio subito con il ricordarvi il nostro indirizzo mail angolichioccialespansionetv.it mi raccomando scriveteci aspettiamo i vostri suggerimenti sugli argomenti che vorreste che approfondissimo qua assieme in studio intanto in questa prima parte della puntata siamo in compagnia di maria giovanna farina filosofa buonasera e ben trovata una sera voi ciao allora noi ci siamo già conosciute abbiamo avuto modo qua in studio di affrontare diversi argomenti oggi ci incontriamo perché tu hai pubblicato un nuovo libro il titolo è da zero alle stelle viaggio musicale con renato zero alberto fortis mariella nava e cristiana pegoraro il tutto condito con la filosofia certo questo fa parte di un progetto di cui sono molto lieta di annunciare che è la collana di pratica filosofica per chi è in publishing international che ho il piacere di dirigere e dove c'è un comitato scientifico di giovanissimi docenti che sono tutti sotto i 40 anni in questa collana ho voluto pubblicare questo libro che è frutto di lunghi studi io è sempre molto semplice la mia scrittura immediata per tutti come dico sempre però ci sono voluti anni per arrivarci e io ho voluto attraverso la mia esperienza ho fatto una chiave di lettura musicale e filosofica per parlare per far vedere come la filosofia ci possa aiutare a vivere meglio naturalmente la musica sappiamo tutti quanto sia terapeutica e io ho voluto dimostrarlo con l'aiuto di un filosofo che tutti conosciamo per essere un matematico che è Renato Cartesio che pochi sanno si è occupato invece anche di musica con un libro assolutamente non vi auguro di leggerlo perché non è per niente carino insomma divertente ma in una parte in un punto di questo libro ci dice proprio che la musica serve a dilettare i moti dell'anima quindi addirittura nel 1600 lui comprese quanto la musica fosse terapeutica io mi sono fatta accompagnare da lui per poi parlare di questi cantanti e della loro modo di comunicare ecco allora prima di scendere nel dettaglio effettivamente è vero ci sono proprio anche delle degli indirizzi terapeutici che si chiamano musicoterapia e che vengono adottati in diversi ambiti ad esempio nelle patologie mentali infatti infatti io naturalmente come filosofa pratica e come consulente filosofico non mi non entro nell'ambito patologico psicotico quindi mi limito a quelle che sono le difficoltà relazionali le difficoltà che ogni persona può incontrare durante la vita però credo che la musica come ho voluto dimostrare nel libro sia utile ci faccia compagnia ci fa stare bene ma soprattutto facendo un percorso che tutti noi possiamo fare ecco io sono partita dal mio cantante preferito dell'adolescenza che è stato renato zero un grande amore no io nel libro lo chiamo la grande madre cioè quello dal punto di vista simbolico è una madre e spiego anche perché cioè perché lui sa mettersi a disposizione di tutti questo è quello che lui mostra naturalmente la mia analisi è del personaggio non dell'uomo e si mette a disposizione e lo dice anche nei testi che io poi analizzo durante il percorso mentre Alberto Forti se lo definisco l'uomo della metafora cioè lui simbolizza è meno diretto nell'espressione però ci dà una grande simbologia Mariella Nava un'altra grande cantante della nostra musica leggera che però è anche autrice mi è servita tra virgolette per parlare del femminile infatti l'ho chiamata la moderna signora della scrittura lei scrive testi e anche te e anche musica e infine Cristiana Pegoraro che è una pianista di fama mondiale italiana molto conosciuta all'estero mi ha aiutata ad elevarmi alla musica classica che io come ammetto con tutta la mia ignoranza mi era assolutamente poco affine sostanzialmente lei con la sua capacità di comunicare anche e di esprimere la musica e di eseguire la musica è riuscita a farmi arrivare al punto più alto del percorso infatti l'ho definita la pianista che cura l'anima vedi siamo arrivati proprio alla cura certo allora questi sono diciamo i quattro interpreti che hai preso in considerazione li hai poi messi immagino in pratica in base a quattro esperienze esistenziali che bene o male tutti noi affrontiamo ovvero amicizia amore morte e tradimento in che modo la musica ci può venire incontro in questi in questi frangenti certo in renato zero troviamo tutto già troviamo tutti questi quattro momenti e io infatti lo dico attraverso dei dei brani attraverso non tutti naturalmente metto in luce alcuni brani importanti del suo del suo percorso a partire proprio dagli anni settanta la favola mia una canzone sicuramente che tutti conoscono e lui ci dà dei messaggi molto diretti ci fa capire quanto è importante all'amicizia all'amore però affronta la morte perché lui affronta con grande forza il tema della droga molto attivo in questo nelle sue nei suoi testi lo è stato moltissimo e quindi sicuramente la droga ci porta alla morte e ci fa capire quanto dobbiamo starci lontano no ma fatto da un cantante secondo me un ragazzo ascolta molto di più che la mamma o l'insegnante e quindi anche per questo la musica con le parole hanno un percorso ti portano un percorso terapeutico perché poi arrivare alla musica dell'anima cioè quella più sofisticata per arrivare lì hai bisogno di una preparazione che secondo me rarissimi adolescenti riescono ad essere appassionati ma proprio perché comunque non c'è anche una cultura secondo me una preparazione che si potrebbe invece dare fin dalla più tenere età è vero ma quindi in base ai testi tu credi che l'interprete riesca a comunicare a darci una sorta di messaggio anche di sollievo su queste esperienze che così nella nostra limitata percezione personale non riusciamo a rendere universali forse no e quindi a viverle e ad affrontare sicuramente ci accompagnano di fatti ho provato sia come ho partecipato ai concerti da ragazzina e poi anche da grande però chiaramente da ragazzina lo vivi in un altro modo poi da grande magari ti informi intervisto le persone e tutti quando escono dal concerto del loro cantante preferito stanno benissimo e lì viene fuori come ci sia stata una catarsi dell'anima una pulizia la musica muove tutto ti fa anche emozionare piangi non solo ridi però dopo questa catarsi hai una libertà interiore incredibile vedi quindi è già una quindi un benessere immediato e io cerco di accompagnare a questo perché mi piace pensare che chi leggerà lo trasmetterà ai figli lo farà leggere anche ai figli perché non è un libro complicato e quindi possano tutti vedere questi momenti di musica come dei momenti straordinari per la propria crescita anche certo peraltro piccolo inciso il libro è disponibile in versione ebook sì perché la collana ho voluto che c'è proprio ebook però questo in particolare da zero alle stelle si acquista anche in carta proprio sui siti più noti che sappiamo delle vendite online certo e mi dicevi che hai sentito e avuto modo di confrontarti con questi interpreti ad eccezione proprio di Renato Zero sì aspettiamo di confrontarci anche con lui di persona sicuramente gli altri sono anche più vicini alla mia quotidianità e ho avuto dei riscontri positivi dopo questo libro tutti e tre appunto Fortis, Nava e Pegoraro mi hanno manifestato la loro insomma così buona impressione possiamo dire nei confronti di questo mio lavoro ma al di là che magari il loro obiettivo sia proprio quello di parlare a quante più persone possibile in una maniera più efficace di quanto il ragionamento di un ragazzino ad esempio possa arrivare a fare loro sono consapevoli cioè di questa missione tra virgolette che si sono scelti? credo proprio di sì Alberto Fortis mi ha fatto un elogio anche pubblico per quanto riguarda come sono stata capace di individuare i suoi codici artistici mi ha detto quindi credo che più di così non potessi aspettarmi Mariella Nava è una persona molto alla mano ma anche Cristiana Pegoraro abbiamo fatto anche delle altre cose insieme ho presentato un altro mio libro della collana che ho messo le ali e quindi c'è secondo me una sintonia anche un modo di vedere al femminile siamo tre donne quindi sicuramente riusciamo a confrontarci anche su quel lato e nel libro poi emerge sia Mariella Nava per il femminile ma anche Cristiana Pegoraro che mi aiuta attraverso una musica a parlare dell'amore quello passionale quindi addirittura non lo so non mi ha mai detto se ho ragione però quel brano che io appunto cito che è The Wind on the Sea ormai è diventato un brano fisso nelle sue performance quindi credo che di avere forse detto qualcosa di buono certo ma c'è da dire che tra questi interpreti appunto va un po' distinta la propria persona quindi la loro sfera anche privata e poi il personaggio quello di cui appunto godono anche i fan e gli ascoltatori ma dal mio punto di vista questi tre personaggi come li ho percepiti al di qua come pubblico che sono stata pubblico poi nella realtà li ho viste persone veramente alla mano cioè forse c'è un po' di timidezza anche in questi personaggi quando appaiono tu pensi magari che ti vogliono tenere lontano poi in realtà conoscendoli mi sono trovata molto bene quindi non mi hanno delusa e per questo io sono molto felice anche di andare in giro a parlare di questo libro è un momento bello del mio percorso filosofico certo e al di là appunto del quattro interpreti che tu hai scelto tu mi spiegavi che in realtà il libro è un po' così uno schema che si può anche trasferire ad altri cantautori certamente perché possiamo immaginare chi ci ascolta il tuo cantante preferito Vasco Rossi ne dico uno così tra l'altro che anch'io ho seguito un po' nell'adolescenza ognuno lo riporta a sé questo come dicevo è un mio percorso autobiografico io credo molto anche nell'efficacia della scrittura autobiografica per far chiarezza dentro di sé se vogliamo per recuperare è bello anche fare il punto io penso che la musica attraverso i vari momenti della nostra esistenza ci faccia fare anche il punto su dove siamo arrivati chi siamo stati e forse ci dà anche la spinta per andare avanti verso nuove direzioni quindi è efficace perché è piacevole tutti noi siamo contenti ad ascoltare dei pezzi che ci piacciono e quindi penso che sia bello anche per quello ci porta a fare un percorso con il piacere della musica perché quando io ho scritto questo libro ascoltavo maledettamente ogni giorno tutti questi brani ero stordita quasi però ho fatto il percorso della mia vita fino ad ora e invece per il lettore qual è il fine ultimo che si può raggiungere leggendo il libro? ma il fine ultimo come dico in conclusione tanto non è un romanzo e si può dire è cogliere attimi di felicità la felicità non è un continuum nella nostra vita non siamo felici tutto il giorno ma ci sono dei momenti in cui riusciamo ad essere felici e credo che questo libro unito alla musica e alla filosofia pratica possa fornirci questo benissimo grazie Maria Giovanna per essere stata con noi stasera grazie a te è un piacere ricordo appunto il titolo del libro stiamo vedendo la copertina da zero alle stelle viaggio musicale con Renato Zero Alberto Fortis Mariella Nava e Cristiana Pegoraro e la filosofia certo grazie grazie ancora qualche istante di pubblicità ma torniamo tra pochissimo con la seconda parte di Angoli a tra poco